Ciao a tutti, siamo arrivati a Lorient questa notte, siamo partiti due settimane fa da Genova, abbiamo fatto una prima parte di trasferimento Genova-Malaga e poi la qualifica per la Jacques Vabre da Malaga a Lorient, è andato tutto benissimo e adesso dobbiamo iniziare i lavori per preparare la barca per la regata, appunto la Transat Jacques Vabre che partirà a novembre. Albi, com'è andata? Sono molto contento per il trasferimento, la barca è andata tutto bene, l'abbiamo preparata bene e quindi siamo arrivati qua senza fare danni e cose, abbiamo navigato pulito. Ciao a tutti, seguiteci ancora sui social che ne vedrete delle belle. Adesso in cantiere. Grazie.